Da gennaio, servizio anche a domicilio. Da qualche anno a questa parte è ormai diventato un rito per la comunità di Val Furva. La festa paesana sull'isci è l'appuntamento che scandisce l'inverno dalla comunità dell'Alta Valle, che si riunisce sulle nevi di Santa Caterina per una giornata di sport ma soprattutto di aggregazione, in ricordo dei suoi giovani che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. Come di consueto in programma tre prove, cindorico, sciarpino e camminata non competitiva. Quale pulsante della manifestazione al centro è la fonte, da dove prenderà il via la prova di fondo e la camminata, punto d'arrivo invece per gli appassionati della velocità. Ma come anticipato, la manifestazione non sarà solo un'occasione di confronto sportivo. Al termine delle competizioni ci si riunirà per un momento conviviale, che in realtà è il vero scopo dell'evento, radunare i giovani e i meno giovani sotto lo stesso tetto. Per la prima volta ad accompagnare l'evento ci sarà il neoparroco Don Mario Bagioni, che celebrerà la Santa Messa al termine delle gare. A seguire, il tradizionale lancio alpino a cura degli alpini di Valfurva, sempre in prima linea per dare il proprio sostegno e contributo con poni in tataragna, formaggi e salumi nostrani. L'appuntamento è per domenica sulle piste di Santa Caterina Valfurva, con la speranza di poter ritrovare lo stesso sole che l'anno scorso aveva reso ancora più splendente la giornata.